Si chiama Pillole di Movimento, il progetto promosso a livello nazionale da WISP e Federpharma con il sostegno locale delle ULS per riavvicinare i cittadini allo sport e all'attività fisica dopo la pandemia. Andrea Rossini. Muoversi a qualsiasi età, possibilmente insieme ad altri, un ingrediente fondamentale per il benessere psicofisico. Secondo l'Unione Italiana, sport per tutti. Due anni di pandemia però hanno limitato o interrotto la pratica sportiva di molti. Per questo, l'UISP lancia la campagna Pillole di Movimento. Sono scatolette che i clienti delle farmacie troveranno sul banco. Dentro però non ci sono medicine, ma un buono, con una lista di attività sportive da poter esercitare gratuitamente per un mese nei centri e nelle palestre che aderiscono all'iniziativa. La pandemia ha comportato una grande riduzione dei praticanti sport e attività fisica. Molti cittadini che facevano sport hanno smesso e questo incide sui numeri già alti di sedentarietà nella nostra regione, nel nostro paese. Per i responsabili dell'Ulsa polesana, Pillole di Movimento è un progetto che difende la salute della popolazione. Credo che sia utilissimo dare indicazione alla popolazione di incentivare tutte quelle attività che promuovono il movimento, che vanno ad ostacolare tutti quei comportamenti di sedentarietà che è dimostrato, che non generano salute, ma che generano patologia. Federpharma aderisce a livello nazionale all'iniziativa nel Veneto per il momento. Riguarda 300 farmacie e 40.000 scatolette distribuite nelle farmacie di Rovigo, Padova e Verona. Le farmacie distribuiranno gratuitamente queste scatolette a favore degli utenti che ovviamente si troveranno interessati alla promozione.